Luca Onestini e Tonnon dopo il Grande Fratello fanno serate di coppia Luca Onestini e Raffaello Tonnon serate di coppia in discoteca dopo il Grande Fratello Vip. Tra le tante cose la seconda edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata anche per gli Onesto, la coppia di amici formata da Luca Onestini e Raffaello Tonnon. I due hanno stretto in poco tempo un legame fortissimo nella casa di Cinecittà e hanno conquistato il pubblico. che ora a gran voce li richiede insieme nei locali per selfie e strette di mano. E così dopo Cecilia e Ignazio, un'altra coppia del reality show si fa spazio nelle discoteche. L'extronista di Uomini e Donne e l'opinionista di Barbara Durso faranno la loro prima serata di coppia al Fellini di Polignano milanese il prossimo venerdì 15 dicembre. Un'occasione unica per i tanti fan del programma di vedere dal vivo la coppia e ballare l'ormai tormentone di Luca, batti le mani, schiocca alle dita, umore alto tutta la vita. L'amicizia continua dopo la fine del grande fratello. Continua dunque l'amicizia tra Luca e Raffaello, un'amicizia che ha fatto ridere, sognare e divertire i diretti interessati ma soprattutto i telespettatori a casa. Tu non ci ha però tenuto a precisare di non essere innamorato di Onestini, come insinuato durante la finale del grande fratello VIP da Alfonso Signorini. Sono innamorato della purezza di una persona di cui non puoi fare a meno ha replicato l'ex vincitore della fattoria. Tra i due solo un rapporto amichevole, di quelli difficili da incontrare nel lungo cammino della vita. Tu non ha chiaramente dichiarato di sentirsi meno solo da quando ha conosciuto l'ex fidanzato di Soleil Sorge, tanto che i due stanno pensando di andare a convivere, come rivelato al grande fratello. Magari a Bologna, dove Onestini continua a studiare per diventare un dentista come il padre. Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme a Verissimo. Oltre alle serate insieme in discoteca non mancheranno gli appuntamenti televisivi per Luca e Tonon. Il primo? L'ospitata a Verissimo nella puntata in onda sabato 9 dicembre. In tale occasione verrà riunito tutto il cast del grande fratello Vipe e Silvia Toffanin condurrà insieme a Ilari Blasi. Il primo? L'ospitata a Verissimo? 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 L'